Consacrazione, è questa la parola adatta per l'Ivpc del Festivalino dopo la vittoria, la terza, arrivata nello scorso weekend contro Cassino. La truppa di coach Giovanni Benedetto oggi ha punteggio pieno, Andrea Valentini è certamente uno dei protagonisti di questo inizio di campionato. Ha sciolinato in questo principio di stagione agonistica delle prestazioni notevole ed una tecnica invidiabile. Lottatore se ce n'è uno non si tira mai indietro, se ce n'è da sgomitare lo fa decisamente volentieri. Ha il passo in più da fare perché Cassino, anche se dal ranking iniziale era sfavorita, però veniva da due vittorie. Una fuori casa, che è la prima fuori casa, si sa che è sempre molto difficile, e un'altra in casa contro Salerno che era favorita rispetto a loro, quindi veniva in fiducia e noi ci siamo fatti trovare i pronti. Valentini svela il segreto di questo inizio scoppiettante di campionato da parte del roster bianco-verde. Siamo un gruppo unito sia dentro al campo che fuori dal campo, quindi anche quando magari succedono delle cose che ci possono portare a disunire, ma a disunirci, ma noi rimaniamo sempre compatti. Comunque riguardo la partita di domenica, anche se abbiamo avuto dei cali, ma siamo stati sempre una squadra compatta. Il prossimo appuntamento di campionato è sul campo di Ruvo di Puglia, uno scontro al vertice contro la squadra più forte del girone, assieme a Roseto, che la scorsa settimana ha ottenuto il primo successo in stagione. Ruvo è un campo molto caldo, ma questo non spaventa. Una volta in campo diamo tutto e cercheremo di portare a casa la partita.